In compagnia di Vittorio Triarico al termine dell'allenamento del mattino del Bitonto. Vittorio innanzitutto come stai e come procede questo ritiro del Bitonto qui a Camerino? Il ritiro procede molto bene, stiamo lavorando tanto, siamo un po' stanchi, però questo mi serve per mettere benzina per l'inizio del campionato. L'anno scorso qualche problemino fisico anche forse legato a una preparazione non ottimale inizio dell'anno, sappiamo bene i tanti motivi, questo forse è l'anno anche per Vittorio Triarico del riscatto, raggiungere subito una condizione fisica importante ed essere decisivo. Sicuramente l'anno scorso è stato un anno molto travagliato, però quest'anno speriamo che non si ripeta nulla dall'anno scorso e stiamo lavorando per questo. Io spero che sia quest'anno l'anno del riscatto e di dimostrare il mio valore. Sulla corsia, mister Claudio De Luca, dove ti sta provando in questi giorni di lavoro qui nelle Marche? Il mister in questo periodo mi sta provando nei tre davanti, a destra, a sinistra, nei tre quartisti, però io cerco di dare il massimo e dove il mister mi chiederà di fare un sacrificio lo farò. Uno dei confermati della scorsa stagione che può sicuramente parlarci di come il gruppo sta crescendo in questo ritiro. Sì, il ritiro serve anche a questo, a formare un gruppo e noi fino adesso ci stiamo trovando molto bene. Sono arrivati tanti ragazzi nuovi, tutti dei bravi ragazzi, degli ottimi giocatori e questo quindi rende tutto più facile.